Solo 4 dei 21 locali dell'IP Marconi di San Giovanni Valdarno sono inagibili. Il resto, secondo la provincia di Arezzo, è sicuro e gli studenti potrebbero rientrare. Un rientro scaglionato sulle prime 17 aule che sono presenti con i laboratori all'interno dei Marconi, poi c'è il problema delle 4 aule che in qualche modo troveremo il modo e i tempi per trovare la giusta soluzione. In una riunione online con studenti, genitori e parte della dirigenza scolastica, l'ente ha mostrato carte e certificazioni. Tramite i nostri uffici abbiamo fatto vedere le carte, si tratta di un vecchio edificio di un opificio che da un punto di vista strutturale a tutte le certificazioni è stato fatto un collaudo. Voglio ricordare che negli anni 80 è stato fatto un intervento di riqualificazione da parte del comune di Montevarchi. Ricordo anche che prima le scuole erano nel San Lorenzo, dunque c'erano stati spostati e dunque da allora la scuola come edificio da un punto di vista statico è sana e strutturale. L'ente dunque per bocca del suo presidente afferma di aver effettuato tutti i lavori necessari di messa in sicurezza dopo i crolli di settembre e novembre scorsi. Le 4 aule, una delle quali interessate dal crollo, non sono state riconsegnate alla scuola. Per quanto riguarda il controsoffitto si parla di un elemento secondario, dunque non strutturale che è legato, e noi su questo abbiamo una relazione fatta dai tecnici esterni, a 4 aule. Queste 4 aule che noi abbiamo chiamato la zona B si trovano nella parte esterna dell'edificio che guarda caso è quella più fredda. Molto probabilmente, ma questa è un'ipotesi dei nostri tecnici, questa superfettazione, dunque si tratta di un blocco di cemento con dell'aterizio, è stato fatto sopra il controsoffitto perché serviva per coibentare. La decisione ultima è sempre del dirigente scolastico in quanto responsabile. Nel frattempo la scuola non ha più un RSPP, responsabile della sicurezza, prevenzione e protezione. Non se ne conoscono i motivi, ma l'istituto ha pubblicato lo scorso 8 gennaio un bando per cercarne uno nuovo. Il nuovo quadrimestre inizierà i primi di febbraio. I ragazzi, se non fanno le ore di laboratorio, rischiano di perdere l'anno scolastico. Sì, certo, perché i ragazzi del professionale, avendo 15 ore settimanali di laboratorio e avendo un indirizzo che è incentrato sui laboratori, rischiano veramente tanto, non facendoli, soprattutto la loro preparazione.